Sembra avere una battuta d'arresto il virus in provincia, sono 280 i pazienti positivi registrati nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare, 99 sono i pazienti di Gela, 61 a Caltanissette e tutti gli altri suddivisi per i vari paesi della provincia. Acquaviva al momento è l'unico paese covid free. Sono 760 i pazienti positivi in città, c'è stato un solo decesso, un paziente di San Cataldo, aumenta di una sola unità l'ingresso in ospedale, infatti ricoverati in malattie infettive sono 59, stabili quelli in terapia intensiva sono 3. Sono 3536 positivi in provincia.